Siamo con i rifertisti, insomma vi schiavizzano anche voi, ho fatto tutto lo staff, raccontatevi un po' la vostra esperienza, cosa fate, come vi sfruttano? Allora, ci sfruttano, si fa le parti nelle partite Ti mi devi raccontare che ti sfruttano, nel senso io devo... Ci bastonano da dietro, dopo la finita partita, se no siamo tutti chiusi, quindi ci bastonano Questo è un appello che dovete fare, insomma, contro il Bruni, sto raccogliendo le firme per eliminarlo dalla Summer, quindi insomma, raccontate come vi tratta, insomma, raccontate un po' lo sfruttamento, cosa consiste? Ah, lo sfruttamento consiste nel... nel fare le parti del retetto, il tempo, e poi... Abbichiamo anche la notte per tenere il tempo, è vero questo? Sì, anche la notte, tante volte la sveglia la facciamo noi a mattina Cioè, la mattina devi andare a cantargli la sveglia, vero Adela C'è molta collaborazione tra gli artisti Sì, insomma, siete molto simpatici, infatti anche... Voi partecipate molto, insomma, Adela, vi chiedo, come a tutti, una delica speciale al successo di questa manifestazione e a chi volete farla? Chi parte? La manifestazione, la delica a Matteo Bruni, che organizza un particolare entusiasmo e che ne serve per me Te? Chi la vuoi fare, la delica? Non mi fa anche te, Matteo Bruni, perché non ci credo? Io faccio a tutti, perché ognuno è il suo ruolo, ognuno serve a qualcosa Se fossi... se fossi te a fare interviste, a fare le cronache, ognuno a fare le reperti, il tema sarebbe completo Quindi, ognuno vado raggiunto alla manifestazione Vai? Io? Sì Allora, io la delica la faccio al pubblico, perché se non ci fosse loro non potrebbero offendere gli altri Non ci sarebbe il vertimento Perfetto, e l'ultimo? Le squadre che sono salivate allo giornale, l'ultima delle successi Perfetto, ringraziamo i refertisti, vi lasciamo andare allo...